Scritto! Sai che l'hai inviato il commento di... Troppo in lost Idiocane, sia maledetta la quiz del patente Minchia, veramente Ho prova Ma arrivano le notifiche ogni due per tre Ma anche te fai la valente Ma ti siano una perforza le notifiche? Ma quella domanda non risponde Rispondici da solo Sono domini Se sono tipo notifiche che ti continuano a spammare Potete mettere che ti balla lì Dicevo Ti siano una perforza le notifiche Ti siano una perforza le notifiche Bene Poste Seguire Perciò Perciò Cosa Grazie a tutti.